La Danimarca non è vostra amica. Voi servite un solo scopo per noi. Dovrete ripulire le coste orientali della Danimarca dalle mine tedesche. Mine che voi avete portato qui. Siete dei soldati? Dalla bandiera nera fino laggiù ci sono 45.000 mine. Voi le disinnescherete. Quando avrete finito potrete tornare a casa. Hai qualche obiezione? Signore, no signore! Stai piangendo? Signore, no signore! Siete degli idiati! Solo un mucchio di stupidi tedeschi! Trovata una! Trovata una! Merda! Fermo! Sono dei ragazzini, Ebbe. Aiutatemi per l'amor di Dio! Ragazzini che chiamano la mamma quando sono spaventati. Oppure quando saltano in aria. Sono tedeschi. Se tiri fuori ancora il discorso, premerò il grilletto personalmente. Non ce la faccio! Ernst, torna qui! Torna qui! Ti prego! Torna qui! Avresti dovuto dirmelo che erano dei ragazzini, Ebbe. Iniziano a piacerti? No. Se sei abbastanza grande da andare in guerra, puoi anche riparare a quello che hai fatto. Boom! Non dimenticare. Meglio loro che noi. Ripeti con me. È quasi finita. È quasi finita. Io tornerò a casa. Io tornerò a casa. Sì. Sì. Sì.